Villa Gallerana, Carugate La villa si presenta come un compatto parallelepipedo con i caratteri del classicismo degli ultimi decenni del Quattrocento, dove le alte e strette finestre ad arco del piano terreno sono un residuo tardo gotico. Ciò che rende unica la villa è la decorazione pittorica delle sale appartenenti al nucleo 4-5 centesco. Nella sala convolta a ombrello, gli spicchi disposti intorno a un sole radiante formano una grande stella ottagonale e presentano sul fondo blu vivacissime e spesso naturalistiche immagini, in cui si mescolano tra i racemi putti e cornucopie cariche di frutti, animali araldici e cartigli, ma anche figure mostruose. La decorazione del secondo decennio del Cinquecento riprende il modello della romana Domus Aurea riscoperta pochi anni prima. Grazie a tutti. Grazie a tutti.